E come sappiamo che questo è il nuovo Eden? Dobbiamo affedarci all'orgonso per renderlo male? Perché l'orgonso non può renderlo male? Lo sappiamo perché l'anno... L'idiota di un prete deve imparare la differenza tra battezzare un uomo e annegarlo. Devo trovare un punto di riferimento e scoprire dove sono. A padre Franklin una chiave d'oro, affinché l'Eden avesse l'industria per erigersi al di sopra delle altre... Il profeta riempie i nostri polmoni d'acqua, affinché amino di più l'aria. Tu che hai attraversato il Delaware con spada fiammeggiante e ali d'angelo, veglia su di me e dammi forza. Dammi la tua saggezza e fai la luce della tua capacità per la spada e la pergamena e la chiave. Non esistono. Probabilità o forza. Solo perché una città vola non significa che sia priva di idioti. Coraggio. Ho una ragazza da trovare. Anche una cascata. No, 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 io sono già conastrica. Sto un momento che potremmo organizzare qualcosa. Buongiorno. Bello vedervi. Un giorno perfetto per celebrare. Una descrizione completa del recente discorso fatto dal profeta a voi, il popolo di Columbia, della clemenza e della cara Lady Comstock, la nostra amata madre del perdono. Oh, quella statua. Credo che non riesca a catturare l'assoluta... come dire... Il piacere non esiste per uno scauto della libertà. Non c'è spazio per il gusto, solo dovere. Saltonstall è a posto, ti dico. Dice che gli importano fede, famiglia e patria. Chi può essergli contro? Mai assumere un artista, caro mio, sono capricciosi e inaffidabili dal primo all'ultimo. Gli ho detto, il parco è troppo in ritardo. Gli ho detto, il vento dei giardini è a metà. Il santuario non è arrivato. La fontana è piena d'acqua piovana, per l'amor di Dio. Nemmeno le calendule sono state piantate. Tutto lavoro... E l'arcangelo mi mostrò una visione. Una città più leggera dell'aria. Le chiesi. Perché mi mostri questo, arcangelo? Non sono un uomo forte. Non sono un uomo giusto. Non sono un santo. E mi disse una cosa sorprendente. Hai ragione, profeta. Ma se la grazia ha la portata di qualcuno come te, come farà chiunque altro a non vederla in se stesso? E' latino. Significa... E' latino. E' latino. Grazie a tutti. Dopo la vittoria a Umbet 20, l'Acello Columbia si presentò a Padre Tom Umbet, mostrandogli una visione del futuro. E così, profeta, tu sei poco lontano da noi. Mi dispiace, amico. Deve aspettare come gli altri. E' una città dove creò un'unione ancora più perfetta. Qual è la concezione miracolosa? L'Aniello, il futuro della nostra città. Perché il profeta ha detto che con lei che è nella torre guarderà la justizia là sotto, ma sotto di noi. Tutto a posto. Buona fortuna alla lotteria. Fiera e lotteria di Columbia. E' forte con la spada, ma un po' debole con chiave e pergamena. Non so se mi spiego. Sistema d'onore. E ora, torniamo alla musica. Sistema d'onore. Grazie a tutti. Chi è questa ragazza? Ti interessa un fiore per l'occhiello? Raccogliamo soldi per la lega patriottica delle ragazze. Un uomo si immerge nelle acque del battesimo. Nesce un uomo nuovo, rinato. Ma chi è l'uomo che è sommerso? Forse l'uomo sott'acqua è sia peccatore sia santo, finché non viene rivelato agli occhi dell'uomo. Alla prossima! Grazie a tutti Non diventarmi un radicale di Finkton, John Non voglio diventare un personaggio di Ho sposato un box popoli, mi spiego? Hanno detto che l'avrei trovata qui Telegramma, signore Telegramma per lei DeWitt, stop Non rivelare la tua presenza a Comstock, stop Qualunque cosa faccia, non prendere il numero 77 Stop, Lutess Cosa dia